e questo cane blu farà disastro nel team nemico figa adesso andiamo a prendere questo oggetto loro sono tutti squishy tutti del primo all'ultimo no Lissandra ha una cometa perfetto Lissandra con cometa non ha nemmeno l'aftershock quindi tiriamo dritto mi piace molto il il nome di Lissandra ai 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 dei scrimi i miei scrimi in questo lugar pillero beh Diana non è un tank ha uno scudo certo ma se mi fiddo il suo scudo me lo mangio il suo scudo vado assassin tutta la vita bella vista Bella Vista potrebbe essere Bella Vista potrebbe essere un nome italiano Ma C'è anche un personaggio di One Piece che si chiama così Quindi potrebbe essere un fan di One Piece di quel personaggio Che tanto non piaceva un sacco Che bello che è in cazzo Bello sguardo Quello era un altro Appuzziamoci perché non so l'isì dove sia Ok Ok E' andato a Red E io vado da su Facciamo una giungla verticale Qualche collab con il Pro di Forge La faremo La faremo La faremo E' in Ussinur E' in programma ragazzi E' in programma Vai Lucian Vai Lucian Maialino Maialino Peccato se Se vivevano Non mi stilava neanche il blu Mi stilava il blu per forza Non ci vado neanche Due chistole sin Ok No problem Non è un problema mio Non è un problema mio Facciamo una giungla In orizzontale Perfetto Sto pensando se fermi anche i lupi Eh ma Annie Eh ma ne devo andare Annie non aveva pressure Ce l'ha Diana prima Ma sbaglio O non aveva il blu Sogno o son desto Ragazzi non aveva il blu Che stupido Che scemo Però me lo frega Però che compare dal nulla Me lo frega Guarda No per fortuna no Che stupidino Bot non posso andare Però il granchio l'ha fatto Almeno quello Scappa Mate Usa lo stun Aftershock Che schifo Oddio buono L'aftershock su Annie No L'aftershock su Annie Non riesco a vedere Non riesco a vedere L'aftershock su Annie Cioè ci sta Non è che fa schifo Soprattutto contro Diana Però Andiamo a tassare Tra la 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 Andiamo a tassare Castle Infernal Ok I'll play bot Dove cazzo sono andato Ok Allora Devo fare Oh Arrivo Cosa c'è lui A livello 3 16 meno Non è un cazzo Non è ancora Recallato Eh no Non si può fa E io il dragon Può starmi da solo Non sono Udyr Fossiato Udyr Non lo sarei fatto da solo Non si può Bastardo Ma bard è morto Sto pensando Un bait Ragazzi Can you bait? Ce la fai baitare In qualche modo? Eppure io sono testardo Io sono testardo Io sono testardo Ragazzi Lo sanno Hai wardato Nice Nice Ah però Sono senza Smite È rischioso Malissimo Andrebbe a stare qua Andrebbe a stare al suo blu Quale al suo red Perfetto Perfetto A volte Perseverare Serve Ok Lissin si è preso il red Credo Ok Manca bordo Io ho fatto Meta stack Circa Mi sa che Inganco Alessandra Non ganco Alessandra Oh la la Quattro botlane Dovrei andare in fretta Arrivo amici Arrivo amici Arrivo amici Arrivo amici Ok Ok Possiamo avaitare Cazzo Non possiamo avaitare Ok Ok Guarda Tippers Guarda Tippers Guarda Tippers Sto girando? No Non sto girando Forse si Ok Nice Sì Sono assassin Yes Ora so cazzi loro E mo so cazzi loro E mo so cazzi loro Trasformato a nove minuti È pochissimo Che bello che sei Che bello che sei cazzo Devo fare la draktar prima Però Avevo già i soldi per questo C'ho preps Lo lascio a lei Nah Prendiamo tutto Scappa Jax Scappa Mi sa che non scappa Allora La Diana è morta I am everywhere Everywhere Oh porca Dario Palle Aveva ancora La E Aveva ancora La E Va bene Nulla di fatto Anche se Tutti ballano Tranne te Il darken è morto Nessi enemy Siamo il prossimo Il bello è che ci stavano pensando Ci stavano pensando Ci andiamo o non ci andiamo E sono morto Oraci Io avrei tiltato Io avrei tiltato malissimo Arrivo amico Ah Arrivo un cazzo Bravo Jax Bravo Jaraxxus Io face Jaraxxus Ragazzi Conoscete Jaraxxus? The Eredar Lord of the Burning Legion Non potete non conoscerlo No 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 Ok Di Eredar Lord E' importante E' molto importante Oh Come gli aiuto Forse avevo sbagliato C'è anche il drago Oh Sì No Che danni Non possiamo lasciargli No Questo Se vabbò Dai ragazzi ho provato Ci ho provato Purtroppo Non potevo Ci ho provato Non avevo lo smite Non avevo lo smite La E di Vayne è un palo in culo Noiosa 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 Però ho fatto un arrolaccio qua Non dovevo fare quel dive Era stupido Ho sbagliato io Ho sbagliato io No ho sbagliato io Eh ho sbagliato bene Sì No per scappare l'ho sbagliato Perché sennò ci morivo Ora voglio sentire quella canzone Letality e quest s Vabbè letality certo Ma quest s No faccio Ledge of night Ledge of night è molto più Scarpacciate di servo Sì ma prima voglio tra Sono già abbastanza veloce così I miei muri sono straveloci Che cazzo di danno era? Balanced Ragazzi che belli Gli assassini sono troppo Più belli di qualunque altro campione Gli assassini sono troppo più belli Ci può da fare Cioè non c'è una categoria migliore degli assassini Non c'è Non c'è Non c'è L'assassino è la categoria suprema Schillata One shotta Ed è divertente Non c'è Non ce n'è per nessuno Non ce n'è per nessuno Gli assassini sono troppo Sono troppo superiori Almeno in teoria Questo gioco Non tanto Ma in teoria Non è per questo Vabbè Questo è il mio punto di vista Ciao Ciao anche io però D'altronde Diana è un assassin Cazzo Non l'ho vista 600 secondi di shutdown 650 gold di shutdown Parecchio Parecchio pesanti Parecchio pesanti Mi serve le job knight subito Prima delle scarpe L'eraldo Eh lo volevo mettere l'eraldo Ma poi è arrivata Diana Dal nulla Con un item Almeno io ne ho due Yay Peebeats Buona quanti danni che faccio L'uco Ragazzi 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 Non morite per questo Ragazzi Dove essere paziente Deve essere molto paziente Molto paziente Molto paziente No riesco Cucu Ma il danno Enny Ma il danno di Enny Ragazzi Vabbè Non fa niente Il danno di Enny Il danno di Enny Era un po' basso Non dovevo andarci Però pensavo di uccidere Sono morto due volte Come un idiota Ho fatto delle morti Veramente stupide Guarda la proto Che strana Che strana build Che strana build Che è Enny Però funziona Abyssal Mask e Magia Funziona perché lei fa male Ed è tank contro Contro questi due Hai capito che furbino L'Eraldo Tranquilli ragazzi Ce l'ho Ce l'ho sott'occhio Tranquilli Tranquilli Che ce l'ho sott'occhio Allora Adesso andiamo a metterlo Top lane No escapamento E qualsiasi Non escapamento Uccidere la mente Visto Questo era un momento propizio Eh che palle Eh che palle E molli una buona volta E va a fanculo La mia vita è brutta No Perché dice così Raga L'Eraldo Deve ballare L'Eraldo Deve ballare L'Eraldo No Mannaggia L'oro Dobbiamo far ballare L'Eraldo Rip Jax A casa Avete visto Il cane blu Dà un sacco di soddisfazioni Quando il team nemico È tutto squishy Ovviamente Altrimenti è una merda Però quando il team nemico È tutto squishy E tu hai un team buono Perché avevo un team buono È un piacere È un piacere giocarlo E ho fatto Pidanno di tutti Eh Eh L'argo Grazie.